Ciao Roberta, io sono il salutatore. Eh certo, chi non ti conosce ormai, è famosissimo. Ti ringrazio, ho detto da te, mi onora tantissimo e da tanto che ti cercavo. Eh, oggi mi hai beccata. Esatto. Allora io ti chiedo un super saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono da sempre. Ma non solo un super saluto, ma anche un grande bacio a tutti. Ecco, io ti ringrazio e tu stai su Instagram e anche su Facebook. E su Facebook. E su Facebook. Assolutamente sì. Qualche chicca che puoi dare ai tuoi fan? C'è qualcosa che bolle in pentola, ma non si può dire. Eh, perfetto. Allora, li teniamo in sostanza, come si dice. E io, ovviamente, ti regalo la manina del salutatore che non potevi non avere. Ciao. 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 Ciao.